Il locale di Reggio Calabria ha posto in essere un servizio di controllo straordinario della circolazione. Sette i veicoli impiegati, tra cui un ufficio mobile, numerosi precursori etilometrici, monouso, drug test ed etilometro. Le attività hanno interessato tutta la città. I veicoli controllati sono stati 145, circa 200 le persone complessivamente identificate. In totale sono state combinate 37 sanzioni amministrative per varie infrazioni al codice della strada, anche a carico di conducenti di velocipedi. Quattro i soggetti che sono stati soppresi in stato di ebrezza alcolica, tra i quali due neopatentati. Per loro sono scattate sanzioni amministrative penali ove previste e ritiro della patente di guida. Due veicoli sequestrati perché circolanti senza copertura assicurativa e tre i soggetti verbalizzati per alterazione delle caratteristiche costruttive dei rispettivi veicoli. Il servizio è stato diretto dal comandante.